Jacopo Guarnieri, oggi inizia il tour dei velocisti, come siamo messi? Noi siamo abbastanza sereni, arriviamo con solo una vittoria però il gruppo si sta amalgamando bene ci abbiamo messo forse più di quello che pensavamo però adesso è il palcoscenico più grande diciamo che se mettiamo le cose in fila per bene qua poi tutto il resto si dimentica Iwan sta bene, abbiamo visto che già ieri in queste prime tappe siete stati abbastanza compatti e invece chi vedi bene degli altri velocisti? Degli altri velocisti sicuramente il più pericoloso è Philipsen, senza dubbio da quello che ha dimostrato fino adesso è quello che rischia di fare più male insieme anche alla sua squadra che ha un ottimo treno E altri? I soliti noti, Jacobsen, Gronewegen, hanno tutti vinto prima di arrivare qua sono tutti in forma quindi mi aspetto che saranno davanti anche loro Van Aert secondo te le farà le volate? Chi? Van Aert Ha detto di no, vediamo se è un falso Tu?